Allora, benvenuti, proviamo a vedere come realizzare dell'erba e qualcuno di voi mi hanno chiesto di continuare oltre che con le scene medievali anche con un'ambientazione realistica in Blender e vedremo una delle cose un po' più semplici su come fare l'erba innanzitutto occorre avere una texture abbastanza simile a uno stelo d'erba quindi faremo fondamentalmente, cercheremo di realizzare qualcosa tipo questo per farlo andiamo nella nostra Blender andiamo nella, dunque ce la mettiamo come immagine di background quindi sapete che basta andare qui sulla destra andare nella background image si fa add image quindi adesso qui ce n'era già una ma noi facciamo add image e qui inseriamo, apriamo un'immagine e nell'immagine cerchiamo di prendere il nostro stelo d'erba che per esempio è questo abbiamo visto che la stelo d'erba non si vede se non si è in tipo 1 e in modalità orto quindi qui abbiamo il nostro stelo d'erba che parte in modalità orto ora noi questi steli d'erba che vogliamo fare li vogliamo fare a bassissimo contenuto di vertici perché questo? perché in realtà vedrete che lo stelo d'erba verrà moltiplicato per migliaia di volte quindi più vertici abbiamo nello stelo d'erba iniziale e più vertici e più lag si otterrà se per caso lo si esporterà su Second Life Open Scene quindi cominciamo a prendere diciamo che vogliamo farle soltanto una cosa molto abbozzata cioè quindi gli metteremo fondamentalmente due facce in questa direzione quindi una faccia qua e una faccia qua e però partiamo sempre a progettare dallo stelo in fondo quindi prendiamo non il cubo quindi questo cubo che abbiamo lo cancelliamo ma partiamo con un piano allora il piano vedete che adesso per vederlo bene andiamo in 7 cioè quindi con la top orto ecco e lo stelo lo facciamo partire fondamentalmente dal basso più o meno qui dove abbiamo lo stelo propriamente detto magari ingrandiamo un po' così abbiamo un'idea allora questo stelo andiamo in Elite Mode A e proviamo a far andare lo stelo partendo da un punto qui quindi magari facciamo B e poi lo accorciamo parecchio ok e poi B qui lo estendiamo e infine facciamo la parte di sopra che viene ottenuta con una semplice estrusione quindi estrudiamo Z no direi Y in questo caso lo estrudiamo verso l'alto ecco facciamolo proprio seguendo più o meno il nostro riferimento e come vedete lo facciamo leggermente piegato ci accertiamo di non essere di non essere fuori ok vedete che qua siamo fuori quindi facciamo ho premuto Z per vedere le parti per non vedere l'oggetto mettiamolo magari ancora un po' più in qua ok qui siamo sicuri che lo stelo sia tutto interno ora questo stelo va bene e vediamo che è composto fondamentalmente da due facce vedete sappiamo tutti che però quando lo riportiamo su OpenSim Second Life lo stelo deve avere anche le facce nella direzione apposta e per fare questo dobbiamo inserire un modificatore facciamolo in Object Mode il modificatore che si chiama Solidify perfetto allora Solidify lo vediamo ha come parametri varie cose fra cui la Thickness che in questo momento vedete 0,0,1 proviamo a metterlo leggermente più basso 0,0,1 e l'altra cosa che io toglierei è il Fill Rim questo perché lui la Thickness cerca di fare non solo la faccia dall'altra parte ma anche le facce laterali quindi nel momento in cui quello è l'orlo quindi quando gli diciamo di non fillare l'orlo generiamo soltanto la faccia opposta che è quella che ci interessa così riduciamo il numero di assolutamente di vertici se facciamo Apply vediamo che a questo punto siamo arrivati effettivamente a quattro facce cioè due facce in una direzione e due facce nella direzione opposta controlliamo le normali in Edit Mode andiamo nel Background Image ci interessa relativamente andiamo nel Mesh Display attiviamo le normali le allunghiamo ok e vediamo un po' come sono messe le normali come vedete sembrano magari facciamo la visualizzazione solida vedete che le normali escono effettivamente nella direzione che ci aspettiamo quindi sono a posto altrimenti dovremmo invertirla quindi questo è lo stelo d'erba fatto basandosi su una immagine in realtà non è difficilissimo fare questo stelo d'erba però la cosa interessante nell'immagine di riferimento sono i colori quindi adesso con Blender Render aggiungeremo un materiale a questo oggetto e texturizzeremo a questo non guardatelo non ce l'avete non esiste andiamo a creare un materiale e questo materiale lo facciamo erba qua allora il materiale erba avrà associata l'immagine New Texture chiamiamo anche questo erba e l'associamo alla nostra immagine originale ok allora adesso perché l'immagine effettivamente sia quella che mi aspetto noi dobbiamo fare l'UV Map quindi ci prendiamo qua selezioniamo tutto e facciamo una unwrap project from view e però lo applichiamo alla nostra foglia ok allora vedete che qui abbiamo dobbiamo un attimino fare un po' di scalature quindi facciamo innanzitutto una scalatura lungo la X per renderlo un pochino più di farlo parecchio eh quindi un pochino più ciccioso e poi dobbiamo fare una scalatura lungo la Y per renderlo più o meno simile a quello che abbiamo fatto prima basta a questo punto se abbiamo fatto tutto bene andando anche solo in materiale o in text dobbiamo andare in text allora non si vede un granché di luminosità perché le luci al solito sono sono un po' particolari no? nel senso che dobbiamo prendere questa luce e magari facciamo un'emisfera vedete un'ottale che sia direzionata la passiamo dall'alto e vedete che qui si intuisce e magari gli mettiamo un'energia mi sembra che qui voglia delle energie molto più alte tipo 1000 ok quindi 1000 in realtà c'è anche sotto quindi facciamo un shift D Z spostiamo verso il basso ok e vedete che in realtà si vede anche dal basso e quindi abbiamo una specie di stelo d'erba che potrebbe essere anche accettabile e partiamo solo con questo allora questo stelo d'erba magari ecco qui la tecnica tipicamente il workflow è una volta che si è preso uno stelo e che poi si vuole lavorarci sopra si si seleziona quindi selezioniamo il nostro stelo gli diamo un nome altrimenti non ci capiamo niente stelo eccolo e poi facciamo M M e poi lo spostiamo fondamentalmente in un layer 2 che sarà un layer dove mettiamo tutti i semi lavorati perché adesso sul layer principale quindi se io clicco qua sono sul in realtà non sono riuscito a spostarlo nel senso che devo farlo dovevo spostarlo sul layer questo e l'ho spostato e vedete che qua sotto mi compaiono due pallini per dire dove c'è della roba praticamente nel layer 1 ci sono le luci queste qua e la la camera e quindi è un contenuto nel layer 2 c'è soltanto lo stelo lo stelo osservate che è allineato lungo il piano orizzontale andiamo però sul nostro sulla nostra scena principale allora qua il nostro obiettivo è quello di cominciare a fare un prato con questi steli e useremo delle particelle quindi cominciamo a fare la cosa spero più semplice quella di prendere questo stelo e di disporlo un po' come se facessimo crescere dell'erbetta in una cassettina quindi la cosa che bisogna fare è proprio quello di farla crescere quindi bisogna fare shift A in object mode prendiamo un piano e questo diciamo che diventerà la nostra cassettina mettiamo magari un po' centrato rispetto alle luci lo allarghiamo un po' questa è la cassettina su cui fare diciamo crescere l'erba e andiamo un po' a vedere questa cassettina bene allora la cassettina andiamo in object mode no in edit mode scusate e cominciamo a suddividerla perché il nostro obiettivo è di fare tanti punti in cui crescerà questa erba e la facciamo facendo una subdivide quindi facciamo subdivide e suddividiamo questa cassettina contorniamo sempre il numero di facce che abbiamo 64 facciamo ancora subdivide siamo a 256 mettiamo 1024 facce ok allora una volta che abbiamo una quantità interessante di facce vedete che su ognuna di queste facce tendenzialmente adesso ci produrremmo uno stelo poi facciamo far crescere questo fenomeno di giardinaggio lo facciamo allora qui togliamo secondo lo stelo cioè l'immagine dello stelo e andiamo a introdurre un nuovo concetto che sono i sistemi particellari allora quando siamo nei sistemi particellari andiamo in object mode i sistemi particellari costruiamo un ecco vedete particle system e qui lo costruiamo come prato ok questo prato è di tipo hair capelli vedete che i capelli vengono perché normalmente viene fatto per costruire dei capelli ma vediamo che in realtà ancora più spesso viene fatto semplicemente per disporre delle cose casualmente quindi in questo caso non dispone ben mille se noi vogliamo disporre casualmente meno di questi capelli cambiamo questo numero se vogliamo disporre 10 vedete che lui dispone 10 capelli ma in realtà noi vogliamo quindi qui mettiamo advanced che ci servirà fra poco vogliamo in realtà non mettere delle linee di questo tipo ma proprio il nostro stelo e quindi andiamo me la perdo sempre a un certo punto sotto render c'è object e nell'object specificate qual è l'oggetto che va duplicato l'oggetto che va duplicato è lo stelo vedete che lui prende e duplica lo stelo però questi steli sono abbastanza grossi quindi bisognerà ridurli un po' in realtà lo scale non l'ha proprio fatto tantissimo comunque per ridurre la scalatura si può anche lavorare sulla geometria invece che uno se voi vedete che posso abbassare e gli steli diventano più piccoli compatibilmente con la mia cassettina quindi 018 questo qui è un po' strano normale comunque fa questo effetto che riduciamo ulteriormente e mettiamo così quindi questi diventano i nostri steli forse ancora leggermente più piccolo diciamo 004 ok e mettiamole comunque ancora tanti perché 10 come vedete non dà la visione organica mettiamole 1000 come erano in origine ok questi qui sono gli steli che se vogliamo anche vedere texturizzati basta mettere texture no forse material ok direi che il motivo per cui manca il materiale verde è perché dobbiamo appunto nel piano dove stiamo facendo vedere la crescita aggiungiamo new e gli mettiamo lo stesso materiale che abbiamo creato prima l'erba e poi ho notato che qui bisogna ancora mettere lo shadeless ok così abbiamo una percezione di come diventa l'erba ora l'erba cresciuta così però se notate non è proprio bellissima perché è tutta tutta proprio assolutamente omogenea quindi per ottenere degli effetti interessanti occorre cominciare ad aggiungere delle cose randomiche quindi andiamo nel nostro sistema particellare e vedremo che abbiamo tutto necessario per randomizzarlo quindi vediamo un attimo cosa possiamo fare la cosa che crea più realismo è quella di introdurre la rotazione cioè praticamente questi questi steli non vanno tutti verso l'alto nello stesso modo ma hanno un comportamento di rotazione svariato per avere questo concetto per come è messa questa cosa occorre metterci global z vedete che già si vede che sono un pochino quindi la rotazione initial orientation global z ha già preso l'orientazione originale ma se aggiungiamo un po' di questo vedete che la nostra erba comincia a diventare molto più realistica nel senso che qui diciamo come cambia quindi mettiamo questa questa cosa e qui mettiamo anche come ruota rispetto all'originale quindi possiamo praticamente introdurre un elemento interessante tra l'altro qui se lo vediamo in rendered vediamo proprio l'erba come apparirebbe e eventualmente possiamo metterci anche uno sfondo un pochino più umano quindi ci mettiamo un real sky però gli mettiamo con il colore dello sfondo mettiamo un pochino più ok un po' più chiaro e magari un pochino più sull'azzurrino giusto così per avere un'idea di come di come verrà l'erba come vedete il computer sta un po' soffrendo perché deve gestire tantissime cose ma ma il computer è piccolissimo in realtà è poco più di un tablet sul face pagato sul tempo 300 euro che come vedete comunque il suo mestiere lo fa andiamo soltanto ad aggiungere un altro tipo di di randomicamente sulla lunghezza dell'erba l'erba non è detto che sia sempre lunga uguale quindi dove è che abbiamo controllato la lunghezza dell'erba qui era sulla geometria e va bene e qui non riesco mai trovare dove sta la gli elementi questa rotazione forse sulla fisica qua ok qui vedete la fisica size gli mettiamo aggiungiamo una randomizzazione qua ecco come vedete qui abbiamo messo una randomizzazione abbastanza elevata quindi la nostra la nostra erba adesso diventa un pochino più realistica nel senso che è lunga corta eccetera a seconda di come secondo questi parametri forse è meglio metterla un po' di meno 0.3 ad esempio ok quindi diventa ancora abbastanza densa ora il punto successivo di questa di questa spiegazione è come trasformare questo sistema particellare in un effettivamente in una mesh quindi come si fa questo allora noi adesso gli abbiamo messo 1000 quindi abbiamo detto sono 1000 per 4 facce quindi sono 4000 facce adesso qui in realtà non lo vediamo perché questo è solo il piano ma per fare questa trasformazione dobbiamo andare qui nei trasformatori e vedete che c'è il sistema particellare e c'è l'opzione convert quindi se io ora faccio convert vedete che succede qualche cosa il sistema particellare è sempre rimasto ma è stato ricopiato come mesh quindi possiamo andare a questo punto sul sistema particellare che è questo lo cancelliamo non c'è più però vedete che l'erba è rimasta inoltre una cosa che possiamo fare è di andare sul piano quindi vedete questo è il piano originario lo vediamo magari in material il piano possiamo anche cancellarlo se vogliamo e soprattutto la nostra idea è quella di di selezionare fondamentalmente tutti gli steli che adesso sono tutti separati quindi dobbiamo fare ma teniamo anche la base quindi facciamo così prendiamo tutto vedete che sono 13.000 vertici 5.000 5.000 facce e facciamo un ctrl j per avere un unico materiale ok quindi a questo punto se noi facciamo tab vedete che abbiamo tutto il nostro prato pronto per essere utilizzato notate che nonostante che i vertici siano tutto sommato molti non sono così tanti come ce lo aspetteremmo nel senso che questo è già già abbiamo lavorato con pochi polimeri pochi poligoni e quindi siamo arrivati soltanto a 13.000 vertici 13.000 vertici per intenderci è abbastanza normale per Second Life e corrisponde super giù a un'occupazione di 13' giusto per darsi un'idea credo che questo punto sia tutto quindi tutti questi blu erano le normali che togliamo e quindi il nostro prato alla fine diventa una volta renderizzato così ovviamente il piano di sotto andrebbe texturizzato in una maniera diversa per questa registrazione è tutto spero che sia chiaro eventualmente vi farò un altro esempio di prato in cui invece di che gli steli escano tutti insieme in maniera fatta in questo modo appliceremo due volte i sistemi particellari per farli uscire a ciuffetti cosa che spesso e volentieri l'erba in realtà in natura esce non così ma a ciuffetti comunque ci siamo